non sono dentro la casa? ma non sono fuori safe i coglionazzi si sono fuori safe infatti mantenuti dentro uno sta scappando dietro dietro due stanno scappando dietro uno sta scappando uno è lì c'è uno col cecchino sempre in casa è uno a terra? vai quello un fondo in trattesa è terra dove cazzo sono tutti? guarda lo va a prendere ma che cazzo fai? chiude... chiude all'isola raga chiude all'isola raga bisogna sfruttarla tantissimo come chiude all'isola? chiude all'isola bisogna sfruttarla tantissimo andiamo andiamo cioè dove può chiude all'isola? ma ancora è tempesta? è morto ma quanto leva? leva 5 ma leva 5 ma questo è morto se l'altro l'ha tirato su c'era che c'è gente sull'alberi dove c'era c'è gente qui in acqua qui in acqua in acqua? si ti rivedo c'era uno c'era uno è russo quindi c'è colpa esclusiva se qualcuno c'è colpa esclusiva è morto? ce l'ho io 12 c'era uno ma lei è clash al metà si c'era che cazzo sono ora? qua c'è uno dietro a quel cazzo di ghiaccio di merda di sotto si ma non è restato e va che pace? ciao si si c'era molto bravo Quanti cazzo li hanno vissati, quattro? Era morto Oh, è sempre lì, è sempre lì 30, 30 50 No, non c'è bianco Terra Eh, tanto vado insomma sopra Muore per forza No, ma devono salire Eccoci la liana, oh raga Terra Sì, ma sono tutti infestati Sette, noi siamo in quattro Oh, sono sotto, sono sotto lì Dentro di, dentro l'albero Raga, raga, fili, fili, fili Fili, fili, fili Che castrello di cretino E' tre contro, no, quattro contro E' due, quattro contro E' sempre lì, sempre lì, sempre lì Vabbè raga, l'abbiamo curati bene gli figli, eh Ancora là? Sì, è qui, è qui Morto Dov'è? Non lo so Non lo so Perca scappà E' qui qui da me Devo stare lì Grande Mamma mia Bella questa, eravamo sopra e... rip Bene l'equip 12 io, 12 vadim 29 29 Bella, bella 29 bombi Lasciate like Fatule, iscrivetevi No 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 No